salve e benvenuti di nuovo al lion bull academy oggi andiamo a fare un video sui dividendi come leggere dove sono i vostri dividendi perché c'è ancora tanta gente che mi sta domandando che non riescono a trovarli bene allora facciamo passo a passo così è più semplice e non c'è problema se ancora non si capisce si rifà un altro video si spiega meglio non c'è nessun problema dai facciamolo velocemente andiamo al nostro portafoglio dopo portafoglio clicchiamo qua sull'istoriale questo bottone qua storiale istoriale o storiale non so come se c'è veramente bene poi andiamo su account statement sarebbe sul bottone di destra del tutto schiacciamo lì lasciamo perché mettiamo la data che a noi ci interessa per esempio diciamo che vogliamo vedere quanti dividendi abbiamo fatto dal primo di questo mese fino adesso così già sappiamo un'idea di cosa stiamo facendo questo mese allora mettiamo il giorno 1 fino al 21 che è ieri schiacciamo qua ci riesce il nostro statement qua ci dice i nostri dati da che giorno che giorno lo stiamo guardando quanto abbiamo cominciato il mese quanti soldi avevamo quando abbiamo cominciato il mese quanti depositi abbiamo messo in quel mese se ci hanno dato qualche refund sarebbe qualche rimborso se abbiamo avuto qualche credito perché se siamo più livello da platino in su no da oro in su possiamo avere un prestito direttamente dai toro per poter investire è una cosa che se lo faremo poi in un video lo spiegheremo un po' perché è una cosa interessante anche da avere se qualcuno l'interessa c'è molto capitale sa che lo può ottenere le commissioni per quel tipo di prestito sono molto molto basse veramente è una cosa è abbastanza consigliata se sappiamo cosa stiamo facendo soprattutto ok così l'aggiustamento penso che sia questo non sono sicuro che non è mai successo ma penso che sia se sono sbagliati in qualcosa i soldi che vi rimborsano in quel senso ve li metteranno qua poi il profitto che avete fatto fino adesso all'anno scusate fino adesso questo mese poi il rollover le commissioni i rimborsi tutto l'insieme qua ci uscirà scritto se abbiamo uscito capitale quanto abbiamo pagato per uscire il capitale e i soldi che abbiamo attualmente nel conto poi c'è qua quanto si sarebbero il nostro capitale che è aperto sarebbe le nostre posizioni aperti quando ci abbiamo qua ci dice quanto si abbiamo aperto e qua ci dice il nostro equity che sarebbe equity o equity che ci dice quanti soldi abbiamo no allora esattamente qua ci fa vedere che all'inizio del mese avevamo 1341 nel capitale aperto quello che ancora non è capitale chiuso perciò non dobbiamo preoccuparci tanto e poi dal giorno attuale quanto è il nostro capitale aperto sarebbe il nostro equity che abbiamo all'inizio del del mese e al momento attuale è un'altra cosa buona sapere poi adesso noi vogliamo vedere un po più dettagliatamente quanti dividendi esattamente ci hanno dato allora andiamo all'ultima pagina e qua ci lo divide tutto meglio ci dice tutti vabbè questo non so neanche che lo spiego ci dice qua i nostri profit fatti dagli stock reali 11,99 i profit o perdite fatte dagli etf 6,72 e i dividendi reali che ci hanno dato 3,09 se avete il conto australiano perché si anche in europa potete averlo all'australiano perché volete avere più leva che lì c'è più leva di quella che c'è qua in europa allora i dividendi invece di dividendi in operazione reale vi verranno dividendi in cfd perché si l'x1 in australia sono cfd anche non sono reali come qua in europa però il buono è che vi danno i dividendi anche sempre che sia in x1 senza leva anche qua in europa deve essere x1 perché ci sono dividendi poi ci danno qua i refundi rimborsi dei comisi che abbiamo fatto con gli spread qua ci verrà tutto scritto va bene dai questo era tutto spero che l'abbiate capito un'altra cosa che volevo dirvi se volete vedere esattamente quanto vi hanno pagato potete andare indietro 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 finché trovate la pagina dove vi scrivono questo rollover fees e poi vi dice qua pagamento causato da dividendo già sapete che tutti questi sono dividendi che vi hanno dato così li potete vedere voi tranquillamente una cosa buona da vedere e da sapere penso poi queste sarebbero la posizione del sarebbe l'identificazione della vostra posizione così potete andare a cercare e vedere che compagnia ve l'ha data è un po più complicato da cercare però si può anche fare non lo spiego qua perché ci vorrebbe un po di tempo per farvi vedere ognuna dove un'altra cosa volevo dirvi sui dividendi importante comprare il dividendo prima dell'ex esempio questo è ltc che è quella che ce l'ho io già ogni mese paga dividendo questa e ci dà attorno a 0 19 elevando il 30 per cento rimane al 0 15 0 14 subito ro allora che dobbiamo fare tre giorni prima dell'ex dividendo dobbiamo comprare l'azione se vogliamo il dividendo la compriamo tre giorni prima almeno come minimo si possa comprare anche molto prima come minimo tre giorni prima devi averla l'hai comprata e se poi diciamo che ti sta andando molto bene prima che arrivi il pagamento e vuoi chiuderla perché ti ha dato tanti profitti dici madonna vado a perdere il dividendo per chiuderla no non lo perdi se l'operazione viene chiusa dopo il record date allora anche se la chiude per esempio qua il 23 che questo sarebbe il record del 22 il 23 prima del pagamento vi arrivano lo stesso i dividendo l'importante è chiuderla dopo il record date già comprando la prima dell'ex dividendo e chiudendola dopo il record date siete riusciti a prendere anche il loro dividendo senza dover più mantenere quella posizione questa è un'altra cosa che volevo dire ok dai spero vi sia piaciuto il video se vi è piaciuto schiacciate il like commentate se avete ancora qualche dubbio e soscrivetevi al canale poi farò un video spiegando che già abbiamo superato 500 poi faccio un video ringraziando a tutti veramente l'appoggio che mi state dando io mi sto divertendo tanto poi spero che voi starete anche imparando tantissimo mi piace molto parlare sul trading non ho tanta gente intorno a me su cui io posso parlare su questo e aiutare perciò ho forse 4-5 amici che gli piace anche a loro però non più di quello invece già così sto trovando tante amicizie nei gruppi ci stiamo tutti radunando e veramente penso online sì perché se ho coronavirus non si può vedere nessuno poi uno ce l'ho in Italia alcuni sono in Italia altri sono in Spagna altri sono in America ce l'ho da tutte le parti però vabbè veramente mi sto divertendo tanto me lo sto passando bene sto imparando tantissimo poi faccio anche un video spiegando quanto comincerò a guadagnare con YouTube più o meno così vi fate anche un'idea per chi vuole cominciare a fare un canale che sappia anche quanto si può guadagnare con questo perché penso che sia interessante dai moltissime grazie ricordate like soscrivetevi sotto commentatemi se avete qualsiasi dubbio per favore così ve lo spiego anche meglio e ci vediamo al prossimo ragazzi molte grazie dai ciao grazie a tutti grazie a tutti